Un futuro migliore per i bambini di Arusha. È quello che provano a costruire Giovanni Badioli e Matteo Pierpaoli, giovani pesaresi studenti di medicina che stanno partecipando ad un medical project in Tanzania, appunto nella città di Arusha. Una delle zone più povere dell'Africa dove i due pesaresi stanno toccando con mano il presente complicatissimo per l'infanzia, nonché l'azzeramento di prospettive future per i giovani di domani. Hanno così deciso di rimboccarsi le maniche ben oltre il già lodevole contributo di mansioni mediche. Lo hanno fatto aprendo una raccolta fondi per poter costruire un futuro meno primente soprattutto per gli orfani. Giovanni e Matteo hanno infatti svolto volontariato in un orfanotrofio dove altri volontari tentano di costruire un dormitorio per dare un letto ad ogni bambino dove ad oggi circa 30 creature fra i due e dieci anni dormono in appena otto lette castello. In poche ore sul portale GoFundMe sono stati raccolti circa 3.000 euro, ovvero oltre metà dell'obiettivo del fundraising. La maggior parte delle donazioni arriva proprio dal pesarese per una raccolta che continua al fine di dare cibo e oggetti di prima necessità laddove a questi bambini manca davvero tutto. Dai giocattoli fino agli articoli di cancelleria saranno Giovanni e Matteo a farsi carico degli acquisti. Oltre all'immediatezza dell'aiuto fin quando i due pesaresi saranno in Tanzania seguirà poi una seconda fase a Pesaro organizzando e raccogliendo beni, alimenti, vestiti e medicinali da spedire ad Arusha cercando di costruire un aiuto sempre più strutturato.